Evade dagli arresti domiciliari ma ci ritorna nel giro di poche ore finendo in arresto. E dunque nuovi guai per un giovane gelese di 29 anni che è stato colto in flagrante dai poliziotti del commissariato della città del Golfo. Gli agenti hanno infatti sorpreso il giovane mentre girava per le vie della città a bordo del proprio ciclomotore nel tardo pomeriggio di martedì. Una volta riconosciuto il conducente del mezzo a due ruote i poliziotti non hanno perso tempo nell'imporgli l'alt per eseguire tutti i controlli del caso dai quali è emerso che l'uomo era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e quindi avrebbe dovuto trovarsi in casa e non in giro per le vie del centro storico cittadino. Di conseguenza la procura di Gela ha disposto l'arresto del giovane con una nuova applicazione degli arresti domiciliari e una volta completati gli accertamenti in commissariato il 29enne è stato nuovamente condotto a casa sua. Ora si attende che venga chiusa l'indagine e poi si passerà alla fase processuale. Grazie a tutti.